Ciao amici di Priva Cars Ancesario, sono Davide. Oggi vi proponiamo in vendita una DS3 in allestimento chic e con motorizzazione 1.4 diesel da 68 cavalli. Andiamola a scoprire più da vicino, prima però vi ricordo che iscrivendomi al nostro canale YouTube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte. E andiamola a scoprire più da vicino, molto carina in questa colorazione bicolor, bianca e nera, con queste finiture poi nere anche sugli specchietti e con questi cerchi in lega, che andiamo a vedere più da vicino tra poco. Partiamo dall'avantreno, dove si raccolgono gruppi ottici e fari fendinebbia. Il faro sinistro, questo in questione, è stato sostituito nel 2016 a causa di un malfunzionamento. Cerchi in lega, abbiamo detto, da 17 pollici, davvero belli bicolor, carinissimi, che si trovano in ottime condizioni, così come l'intero impianto frenante. La carrozzeria si trova in ottimo stato, abbiamo alcuni ritocchini eseguiti, qualche piccolo danno, ma nulla di eccezionale. Sul posteriore troviamo lo scarico cromato e sensori di parcheggio posterioni. Un portabagagli discreto per la taglia della macchina, abbiamo un bel po' di spazio, fornito anche di accessori per la riparazione, quali rotino di scorta. Per arrivare gli accessori troviamo finestrini elettrici, gestione degli specchietti anche elettrica. I sedili sono davvero molto belli, hanno un taglio particolarmente sportiveggiante e sono in pelle, alcantara e tessuto, davvero ben rifiniti. Non abbiamo da segnalare dei danni, sono soltanto da farci seguire un bel lavaggio della tappezzeria, però per il resto ottime le condizioni. Anche per quelli del passeggero e anche per i sedili posteriori, che sono provvisti ovviamente anche di attacchi Isofix. Pedaliera in acciaio, ESP disattivabile. Poi abbiamo il volante che è in ottime condizioni, era coperto con un coprivolante, lo abbiamo tolto e devo dire che non ci sono stanni da rilevare. Qui come vedete abbiamo anche qui sotto, eccola qui, la levetta della gestione del cruise control, quindi l'auto è dotata anche di cruise control e di climatizzatore automatico. Ovviamente qui abbiamo la radio con lettore cd, un porta oggetti, qui abbiamo un altro porta oggetti, cambio a 5 marce e cuffia del cambio in ottime condizioni. Tra le varie prese abbiamo, come potete vedere, presa aux e presa a 12 volt. Bene amici, spero vi sia piaciuta, l'auto è stata immatricolata nel 2010, è adatta a neopatentati e da 144.000 km. La mobilizzazione, ve l'ho detta, 1.4 diesel da 68 cavalli, non resta che venirla a vedere e provare. Per questo vi basterà contattarci ai numeri che trovate in descrizione nel video e fissare il vostro appuntamento. Per questo video è tutto, un saluto e alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti.